Eccoci tratti su Resident Evil Revelations Vabbè qui sta caricando tutto Adesso in due minuti riesco a... ok perfetto E ci guardiamo il filmato Negli episodi precedenti Insomma il riepilogo Negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations Questo è il virus di Epis E abbiamo messi per infettare un quinto delle riserve idriche della Terra Dannati terroristi E ora vogliono usare il virus per sberrare un altro attacco Cercano la verità su Terra Grigia E la vendetta Raymond! Parli di quel cadavere di prima Mandate una squadra al balcone e nocchi Cerchi un collegamento con la nave o... Manderò Quint e Kate Nooo, io odio la neve E lei che odia te? Scoprite tutto il possibile sulla Belt Ok, ho capito la situazione Il dispositivo di autenticazione che avete trovato appartiene all'aereo caduto Capo, saputo niente di Jill e Parker? No, non ancora L'indagine li ha portati in mare aperto Ma abbiamo perso le tracce della nave Ah, poco incoraggiante Spero stiano bene Già, lo spero anch'io Abbiamo perso i contatti da troppo tempo Comincio a preoccuparmi Trovate un terminale nel luogo d'impatto E vedete se scoprite qualcosa sui piani della Veltro L'aereo è caduto poco più avanti Andiamo Non sarebbe grandioso se scoprissimo come risolvere l'intera missione C'è luce per essere notte È per questo che si chiama sole di mezzanotte E usiamo dei nuovi personaggi Vabbè li abbiamo usati anche prima Ma qui immagino dovevo uccidere qualcuno Perché prima sono stato semplicemente in giro a cercare roba Gli oggetti qua non ci sono Vabbè li avevo già raccolti Con Chris, eh Ce ne ha lasciamente uno comunque E vai Sono qui che uso Snoop Dog Vabbè andiamo avanti senza examinare roba Però ho già capito che Oh cazzo Cosa? Ma che cazzo dice? Sono chiaramente ammi biologiche Comunque ho Finalmente possiamo sparare roba Questo personaggio nuovo Grider si chiama mi sembra L'altro si chiama Bono Non mi ricordo Ma ma Sti cani maledetti Ok Via 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 Cioè quello lì è un nerd E va a fare lo stalker alle donne Ok non so effettivamente Le abitudini dei nerd in questi campi Però mi pare che se ne siano sempre in casa A Fare le robe che gli piace Tipo guardare film Giocare ai giochi Guardare cartoni Così Non penso che Vandano in giro a sparare Alle Ai mostri Vabbè sti cazzi Comunque Sto migliorando Perché sto a fare le foto ai cani Nella parte di Chris Non ce l'avevo proprio fatta Sto giocando con un Parte L'orologio mi sta sul cazzo Grinder Non Grider Però Grider Sembra tipo un po' il nome di un qualcosa Non so Boh Tipo quegli show anni 90 Giapponesi Tipo Masked Rider Vabbè stai dicendo cazzate enormi Eh lo so Oh Che cag... Eh è stato spinto Eccolo qua Non è scomparso Ok Eh un po' Un po' si vedono È tipo la mimetica ottica di Metal Gear Cioè che ogni tanto la vedo Ogni tanto no Ok è morto Già No Era Ce l'ho fatta Dove è andato Cazzo Via 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 Non voglio morire Porca puttana Quanto ho di nemici invisibili Eccolo qua Ma vai Ho recuperato la pillola Dove è andato Eccolo lì Ma vaffanculo Non voglio perdere anche l'altra Dove è andato No ma tu sei un coglione Non lo vedi Eh ma cosa Stai attaccando quell'altro Scusami Ok rimanere in movimento E la tattica Eccolo lì E merda È sparito Ma pensavo di morirci Ok è morto E lascia l'altro Ma Ah beh è vero Quando gli sparo contro io Anche lui lo vede Sono finiti no? Erano tre No erano quattro Eccoli E che pare Un'altra volta Stessa frase Aiuto 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 Merda Merda Oh cazzo E quanti sono Merda di cavallo No è troppo vicino Eh che palle Mi incula Eh no Non faccio più le foto Ho già finito le cose Via 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 Carattera me Oh è fucile a pompa Questo serve Uh Perché lo stordisce Utile Merda Oh Stava per uccidermi Dai Dov'è che siete No merda E che cazzo Dov'è andato Dov'è andato Dov'è andato Un'altra cosa Vai Toglisi Sta merda Ok Morti Adesso lo dici tu Tanto anche se aspettassi due ore Qua non arriverebbero Quindi sto bello tranquillo Accogliamo questo oggetto Facciamo una foto a sto cosa Se posso farla Non c'è Più Vabbè Non facciamo la foto Allora Andiamo avanti Quei mostri maledetti Mostri maledetti Ok Andiamo qua Si non è come c'è altro Per fare prima Tanto non siamo un cazzo Se volete leggere Mettete stop al video Visto che c'è questa grande funzione Visto che non siamo in televisione Perché in televisione Questa cosa non si può fare O si No perché Non so Ultimamente Con il digital test Non ho idea di come funzioni Però non credo Mi sembra improbabile C'è di pistola Posso ricaricare Mi taglietta Così magari prendo altre Benissimo La pistola La posso ricaricare? No Ehm Niente Pare non essere altre munizioni Uh Erba 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 Un altro oggetto Ma quanti oggetti ci sono per te Nesta parte Ehm Quanta erba c'è Dovrebbe essere una cosa positiva Ma non lo è Perché vuol dire che Adesso un po' Ci sarà un casino Ok Sto coso qua Non ha senso di esistere Perché Con Chris Non c'era Ok C'ho la chiavetta Quindi posso aprire Vai E' un altro cadavere E' un altro cadavere Quartier generale Non siamo gli unici a cercare quella nave Aspetta Non è lontano Saremo lì in un attimo Oh Brian Ehm Ci vediamo nella prossima parte Ho dato solamente 7 minuti Questa Cazzo E vedo come gestirla Non penso di caricarla così com'è Ma nel caso fosse Sfiga E salviamo E ci vediamo nella prossima parte Fox alla prossima Ciao